Non proprio in presenza, ancora con i tablet online, noi chiediamo con forza invece un ritorno in presenza effettivo del Consiglio Comunale o in questa sede o presso l'Auditorio Mediarezzo Fiere. Torna in presenza o quasi il Consiglio Comunale, molti gli assessori collegati da remoto e anche i consiglieri di minoranza. Tra le pratiche approvate, la variazione al piano triennale delle opere pubbliche, due le opere già previste e il nuovo canale di raccolta delle acque per favorire una corretta regimazione del reticolo idrico di Castelsecco e il restauro del paramento murario di via Fraguitone, spostata dal 2021 al 2022 la ciclopista Pratantico-Salleo. Una variazione al piano triennale delle opere pubbliche fortemente criticato dai banchi della minoranza. Una variazione prevista, una variazione modesta che non riporta al centro le frazioni, cosa che noi riteniamo molto importante invece. Approvata anche la variazione di bilancio illustrata dall'assessore Alberto Merelli, ma parlando proprio di entrate comunali, l'intervento della minoranza ha riguardato soprattutto l'Atari e ancora il bando per le case popolari. Intanto un Atari che arriva il 28 e il 29 settembre scade il 30, è inaccettabile, le persone non stanno ad aspettare una lettera per poi andare alle poste, giustamente poi dopo anche la nostra segnalazione è stata prorogata la scadenza di nove giorni. L'altra questione è le case popolari. Per la solita demagogia leghista spicciola era stato fatto un bando che era fuori norma, non solo perché andava in contrasto con una sentenza della Corte Costituzionale, ma perché la legge regionale votata anche dalla Lega non permetteva di fare il bando con quei criteri e hanno dopo 15 giorni anche ritirato quel bando. Una maggioranza ha lo sbando, non puoi mettere un bando online e poi ritirarlo dopo 15 giorni, hai fatto perdere tempo a chi ha provato a partecipare e soprattutto sull'Atari non puoi pretendere che le persone in 12 ore paghino la tassa. C'è bisogno di un sindaco in questa città. Perché non c'è un sindaco? Perché manca una maggioranza. Si nota chiaramente che la maggioranza ha lo sbando, ognuno, ogni assessore prova a fare qualcosina, per me male, nel settore di competenza e manca una guida. Ci vuole una guida. Il sindaco non c'è, non c'è per motivi personali, questo non mi interessa, ma di fatto la città, soprattutto adesso che arriveranno anche ingenti finanziamenti europei, è fondamentale abbia un sindaco presente che gestisce, che ha tutto sotto controllo. Lo so, fare il sindaco non è semplice, ma non gliel'ha obbligato, non l'ha obbligato nessuno. Un sindaco sicuramente più presente sarebbe una risorsa importante per la città, come dei piani, sia strutturale, sia la revisione del piano triennale delle opere pubbliche, ma anche le variazioni di bilancio che sono qualcosa di non adatto a una ripartenza effettiva di Arezzo.